Eccoci. Buonasera. Kretz, parlaci un po' di te, della tua storia col Giappone, dei diversi avventi che hai da raccontare. Allora, io praticamente ho iniziato a tatuare nel 93 e per una decina d'anni ho sperimentato in tutte le direzioni, anche perché non ho fatto mai una scuola d'arte, sono autodidatta sia nel disegno che nella pittura che nel tatuaggio. E diciamo che secondo me quel decennio mi è servito per capire cosa volevo fare da grande, nel senso che veramente ho sperimentato ogni tipo di stile che mi piaceva. Sono passato dai graffiti, che era diciamo la mia scuola di disegno, perché sono stato un graffitaro per anni, al biomeccanico, mi piacevano molto i dipinti di Giger, ad esempio, e quindi ho cercato un po' di replicare quel tipo di sensibilità lì, per poi passare ai traditional, cioè a quello stile di tatuaggio più classico e più tradizionale. Sempre nei miei sogni c'era la voglia di fare tatuaggi giapponesi, ma in quegli anni, parliamo del 93 fino al 2003, in Italia c'erano poche persone che si facevano tatuaggi di grandi dimensioni. Quindi rimaneva qualcosa che io disegnavo molto su carta, ma che riuscivo a realizzare poco, c'erano pochi clienti che me lo chiedevano. Però questi miei disegni hanno dato frutto, perché nel 2001 la Ryu Family, che sono dei tatuattori giapponesi, in grosso modo della mia età, apprendisti di Hori Ryu, adesso Ryu, hanno praticamente visto le mie tavole a casa di un amico in Francia e sono rimasti stupiti dallo stile che io stavo proponendo, perché era uno stile giapponese molto classico, a differenza di quello che si vedeva più spesso in quegli anni, che era lo stile giapponese, direi europeizzato, molto bello, fatto da Philip, da Mick di Zurigo, la scuola svizzera, direi, e anche Luke Hackinson di Stoccarda. Logicamente io mi ritagliavo un po' fuori, perché mi piaceva proprio quello stile molto classico, molto riferito all'Ukiyo-e, cioè la stampa silografica tradizionale giapponese. Hanno visto i miei disegni a casa di Sacha Len a Strasburgo, hanno chiesto di conoscermi, io e la Steffi siamo saliti in macchina e siamo andati a fare un weekend a Strasburgo. Ci siamo divertiti molto e lì abbiamo gettato le basi di quella che è un'amicizia che perdura anche oggi. Mi ci sono voluti due anni per racimolare i soldi per comprare il biglietto aereo per il Giappone, che all'epoca costava molto più di adesso, ad esempio, e era molto difficile trovare un volo che con uno scalo ti portasse a Tokyo. Però ce l'ho fatta e dopo mille peripezie, nel 2003 sono arrivato all'aeroporto di Tokyo e a fare un'esperienza lavorativa, cioè sono andato lì a lavorare nello studio di un mio amico, Shiryu di Nigata, che è venuto a prendermi in aeroporto e mi ha portato in macchina e lo ringrazierò per sempre di questa cosa, fino a Nigata. Nigata mi era stata descritta come una cittadina di campagna, ma in realtà faceva 6 milioni di abitanti, quindi non era proprio una cittadina di campagna e non ti nego che girare per la città senza Google Maps che oggi abbiamo e che diamo per scontato era molto complicato, anche perché ogni cartello e ogni riferimento stradale era scritto in giapponese, non c'era niente di scritto in inglese. Non c'erano stranieri, ce n'erano pochissimi a Nigata, quei pochi stranieri che c'erano erano insegnanti di lingua, di solito australiani che insegnavano l'inglese in Giappone. Lì ho conosciuto bene Shiryu perché dormivo a casa sua, stavamo insieme e ho fatto circa due settimane nel suo studio a lavorare praticamente tutti i giorni, perché in Giappone si lavorava tutti i giorni e la sera si usciva tutte le sere, ok? C'avevo 20 anni, quindi insomma ero ancora in forma, potevo permettermelo. E ricordo che una cosa che mi colpì molto era che tutte le persone con le quali avevo a che fare, che erano appassionate di tatuaggio a vari livelli, che fossero dei clienti o che fossero dei tatuatori, erano molto appassionate di tatuaggi e lì ho ritrovato uno spirito molto autentico del tatuaggio. Come hai visto il tatuaggio dal mondo europeo al mondo giapponese? Come li hai visto proprio dalle persone? Diciamo che nel 2003 il tatuaggio in Europa e in Italia in particolare era ormai uscito dall'underground, cioè stava iniziando a diventare un fenomeno di massa, era già molto più accettato di quanto non lo fosse nel 93, solo dieci anni prima. Negli anni precedenti all'uscita delle pubblicazioni, delle riviste di tatuaggi, eccetera, eccetera, il tatuaggio era un grosso tabù nel nostro paese. Avere tatuaggi evidenti sulle mani o sull'avambraccio era considerato qualcosa di poco elegante o comunque di... Diciamo che con quei tatuaggi dava l'idea di essere un poco di buono, ok? Però allo stesso tempo le persone che si tatuavano tendevano a nascondere, a fare tatuaggi molto piccoli, eccetera, eccetera. Invece in Giappone, che le cose sono ancora adesso così, nel 2024, anche se anche lì stanno cambiando, ma già nel 2003, pur essendo che tu i tatuaggi li dovevi nascondere, eccetera, le persone che si tatuavano erano tutte persone che facevano grossi pezzi, no? Quindi questa era una grande differenza, no? Proprio per la storia del tatuaggio che c'era lì. A livello di tatuatori, ad esempio, la botta delle convention, quella secondo me molto interessante per quelli della mia generazione, iniziava un po' a passare. Le convention già nel 2003 iniziavano ad essere una situazione un po' più commerciale, no? Molto meno di oggi, eh, logicamente. Però vi era già più apertura. La clientela che frequentava la convention non era una clientela che si stupiva all'interno della convention, ma veniva già a trovare i tatuatori perché li conosceva. Quindi c'era già una cultura di tatuaggio, no? In Giappone, invece, il mondo del tatuaggio, per fare un esempio, la rivista di tatuaggi Tattoo Burst si trovava assieme alle riviste pornografiche, ok? Cioè, è proprio un tabù. E quindi, chi ne fa parte di questo mondo fa parte del mondo underground giapponese, di quel mondo che non è accettato dal giapponese medio, insomma. Quindi era una scelta molto radicale, no? A me piacciono le scelte molto radicali. E lì mi sono sentito accolto. Perché qui, in Occidente, trovo che ci fosse già una sorta di embrione, diciamo, di creazione di gruppi chiusi, di dinamiche che a me non piacciono, personalmente, no? Invece, in Giappone, quando sono arrivato, mi sono sentito molto accolto. Per quanto molto probabilmente, se fossi stato giapponese, avrei sentito le stesse dinamiche che sentivo in Europa. Ma il bello di uscire dal proprio guscio è proprio quello di avere l'opportunità di vivere una situazione nuova. Calcola che all'epoca di tatuatori che da Occidente andavano in Giappone, ce ne erano veramente pochi e ci conoscevamo praticamente tutti. Mi viene da pensare Alex Reinke, Orikizune, che è un grandissimo tatuattore che ha uno studio sia a Londra e lavora anche in Germania e anche un mio carissimo amico che era proprio apprendista di Orioshi Terzo all'epoca. Lui era uno che viveva al Giappone costantemente. Oppure, non so, Enki Penki, Fercioni, tutte persone che sono andate lì a fare un periodo in Giappone, ma non erano tanti. si contavano sulle dita di una mano. E com'era il rapporto tra di voi? Cioè nel senso che tu mi hai detto che eravate molto legati perché vi conoscevate tutti. C'era la stessa concorrenza o magari lo stesso sentitore che ci sono in questo momento? Ma è tra di noi... Questa a livello umano. Voi italiani barra europei che eravate in Giappone. No, allora, devo dire che la competizione all'epoca io non la sentivo sinceramente nel senso che vivevo un mondo del tatuaggio fatto anzi che quando tu conoscevi un collega eri... non so, ti sentivi a casa, conoscevi un fratello, no? Nella buona parte dei casi. Di sicuro ci sono delle persone che sono estremamente competitive. Io assolutamente no. Sono una persona alla quale la competizione non piace a parte che negli sport forse ma nel tatuaggio mi è sempre piaciuta molta la condivisione e quindi mi sono sempre avvicinato a quel tipo di persone là. Quelli che davano troppa importanza ai premi o insomma al proprio ego a me non sono mai interessati quindi li ho sempre messi da parte. Devo dire che quando trovavi un altro tatuatore in giro per l'Europa che era stato in Giappone cioè ti facevi delle lunghe chiacchierate davanti a un bicchiere di birra perché ci sono delle esperienze che abbiamo vissuto in quegli anni lì che in pochi possono raccontare e quindi era bello anzi avere un compagno d'avventure insomma. Come hai vissuto i rapporti umani con i tatuatori giapponesi? Sono stati molto intensi nel senso che con Shiryu e Oryu in particolare siamo diventati molto amici tuttora ci sentiamo anche se c'è una barriera linguistica forte ma abbiamo trovato diciamo abbiamo coniato una lingua nostra che è un misto di francese giapponese inglese italiano con tante parolacce e riusciamo a comunicare molto bene tra di noi e sentiamo un legame molto forte ci sentiamo proprio famiglia ok e quando loro vengono qui dormono a casa mia stiamo insieme quando loro quando io vado lì vado per trovare loro io in Giappone ci sono stato una quindicina di volte credo e sempre per un mese un mese e mezzo anche due mesi il punto è questo che io ci vado per trovare i miei amici ormai nel senso che logicamente mi piace molto andare a scoprire parti del Giappone che non ho ancora visto e sono sempre molto interessato anche all'aspetto tra virgolette turistico però non so come dire quando sono qui mi sento che è un pezzo della mia famiglia insomma e quindi vado molto volentieri prova a raccontarvi qualche aneddoto di come sei riuscito ad entrare magari tanto in connessione con loro mi ricordo quello di del karaoke prima intanto ci ha agevolato molto la musica che era una cosa che accomunava anche le relazioni tra tatuatori che avevo qui in occidente io e la Steffi veniamo dal mondo del punk esattamente da quello che è la sottocultura degli skinhead noi eravamo avevamo una band OI e suonavamo musica punk no? ci piaceva la musica ska eravamo molto attratti dalla componente multietnica degli skinhead perché non tutti sanno che la cultura skinhead è una delle prime sottoculture giovanili dove bianchi e neri ballavano insieme sotto il palco purtroppo noi abbiamo abbiamo visto in Italia pubblicizzati dai giornalisti gli skinhead di destra ma in realtà quella è stata un'evoluzione in una certa direzione noi invece facevamo parte degli skinhead quelli più originali diciamo che ascoltavano appunto reggae north and soul eccetera e questi ragazzi giapponesi avevano i nostri stessi gusti musicali punk OI e tutta sta roba e quindi quando ci siamo trovati oltre a condividere la passione per i tatuaggi e a essere stati considerati tutti i reietti nei nostri paesi condividevamo anche la passione per lo stesso genere musicale e quindi io ero assolutamente molto interessato ad ascoltare band giapponesi e loro erano assolutamente molto interessati a vedere concerti e roba qui quando si andava a un concerto punk assieme in quegli anni lì lì veramente si legava molto perché ci si sbronzava insieme insomma si andava a pogare sotto il parco ci si prendeva delle belle castagne quindi insomma si legava molto umanamente e un'altra cosa secondo me che ci ha legato tanto è stato il fatto che abbiamo avuto una comunicazione molto sincera tra di noi quindi io non gli ho mai nascosto tutto ciò che pensavo e loro non l'hanno nascosto a me che per i giapponesi è un grande passo devo dire perché ci sentivamo liberi no di poterci confrontare e in più eravamo interessatissimi dallo scambio culturale che poteva avvenire tra di noi perché ad esempio loro mi hanno aiutato tantissimo nella mia formazione nel comprendere la cultura giapponese che io odoravo quando ero in Italia potevo leggerlo in qualche libro anche se erano molto pochi libri sulla cultura giapponese in Italia uno dei pochi che scriveva sul Giappone era Giancarlo Calza professore dell'Università di Venezia che ha scritto dei libri interessantissimi sul Giappone ma le informazioni erano veramente poche e si trovava raramente materiale no? invece andando lì io ho potuto attingere alla fonte diretta ed andare a vedere grazie anche i miei amici che mi hanno indicati dei templi e delle opere d'arte incredibili che mi hanno estremamente influenzato e mi hanno fatto capire qual è il vero gusto del Giappone perché noi quando lo osserviamo da occidentali in casa nostra tendiamo a averne una visione distorta invece andando lì vivendoli con loro e avendo la fortuna di essere accompagnati in questo percorso si imparano molte cose insomma e quindi tutti questi fattori hanno contribuito a stringere questo legale insomma come avete vissuto invece il tatuaggio il giapponese il tatuaggio giapponese credo che sia uno di quelli con più storia insieme al tribale e al tradizionale ma come avete vissuto questa sinergia tra una visione un po' più europea e una visione molto tradizionale del Giappone il tatuaggio giapponese è la prima forma di tatuaggio pittorico a tutto corpo se noi andiamo indietro nella storia il primo europeo che fa dei tatuaggi pittorici probabilmente sarà Sutherland McDonald se devo citarne uno bravissimo tra l'altro invece in Giappone i tatuatori cioè veramente ormai ne abbiamo perso traccia perché purtroppo non si è documentato molto soprattutto nel periodo Edo eccetera anche se le ukiyo-e cioè le stampe tradizionali giapponesi documentano moltissime scene con persone tatuate quindi se ci sono le persone tatuate ci sono i tatuatori e la visione che avevo io del tatuaggio giapponese era probabilmente influenzata io sono veneziano Marco Polo per noi è almeno per me è un mito assoluto quando lessi il milione logicamente la narrazione di questo viaggio stupendo che lui fa difficilissimo molto pericoloso eccetera mi ha colpito infinitamente e la voglia di scoprire l'Asia probabilmente fa parte quindi un po' del nostro DNA qui a Venezia almeno per chi di noi insomma apprezza la storia di Marco Polo arrivare lì come ti ripeto mi ha svelato alcune cose e mi ha incuriosito ulteriormente è per quello che ho continuato a tornarci e continuerò a tornarci molto in Giappone perché è una ricerca individuale ma che ha un come si può dire che ha dei risultati su tutto nel senso che quando un occidentale va in Giappone e studia la loro cultura e logicamente la riporta a casa sua ed influenza volente o nolente chi lo circonda e poi per un effetto diciamo di di propagazione questa cultura entra a far parte vedi la cucina giapponese oggi è entrata a far parte del sì della nostra quotidianità a Milano ci sono probabilmente più ristoranti di sushi che trattorie che fanno il risotto giallo ormai credo che questo modo di vivere il tatuaggio sia qualcosa che non in tutto i paesi sia vissuto magari il Giappone essendo che aveva magari tante restrizioni aveva anche dall'altro lato chi viveva il tatuaggio lo viveva a tutto corpo hai notato anche differenza nel come l'uomo e la donna vivevano il tatuaggio sì assolutamente devo dire che le donne che si tatuano in Giappone sono estremamente coraggiose perché se per un uomo è un tabù forte per una donna è ancora più forte questo tabù ok tutte le donne che ho conosciuto con i tatuaggi mi hanno sempre affascinato molto di sicuro ma mi hanno colpito perché senza neanche aprire bocca trasmettevano un'estrema serietà nella loro scelta nella loro scelta perché è una scelta veramente condizionante soprattutto per una donna io credo che sia la fine dei rapporti sociali cioè se la tua famiglia vede i tuoi tatuaggi è molto facile che ti ripudi ad esempio quindi ci sono ad esempio non è non è difficile vedere le foto dei clienti di un tatuatore in Giappone con il viso censurato proprio perché non si vuole non si vuole far vedere questa cosa un mio amico che ha uno studio in centro uno studio privato in una zona abbastanza centrale di Tokyo vicino ad Asaksa i suoi vicini non l'hanno mai visto con le maniche corte ad esempio per dire e abita lì da almeno vent'anni insomma quindi quando un tabù è così forte così radicato nella società in una società come quella giapponese dove nessuno vuole essere singolare ma anzi si tende a uniformarsi al gruppo per cultura insomma di sicuro il modo di vivere il tatuaggio è molto radicato e molto radicale all'interno delle persone magari a differenza del mondo europeo era anche un po' più personale cioè per come me lo stai descrivendo magari non era una scelta per nero farsi vedere ma era quasi più una cosa personale sì beh io credo che il tatuaggio anche per noi che abbiamo cominciato sul finire degli anni 80 inizio anni 90 era una scelta molto personale nel senso che non li mostravi a tutti quando passavi le frontiere li nascondevi perché una volta non c'era Schengen c'erano le frontiere e se la polizia ti vedeva con i tatuaggi ti metteva 90 e ti perquisiva quasi sicuramente a volte andando alle convention la polizia ha preteso tedesca austriaca svizzera quello che era di aprire addirittura i colori e andare a cercare la droga dentro le boccette rovinandoti e facendoti buttare via tutto o aprire le buste degli aghi insomma chi più ne ha più ne metta tra l'altro il fatto che tu fossi un tatuatore era proprio qualcosa che gli dava a me fanno schifo i tatuaggi a me fanno schifo le persone tatuate io mi sentivo dire questa cosa e tipo a parte la chiara e palese discriminazione per dirti a me non davano un appartamento in affitto a me la Steffi perché avevamo i tatuaggi cioè la gente proprio come ci vedeva dice no 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 io gente così non ne voglio neanche il negozio ci ho messo un anno e mezzo a farmi affittare il negozio quindi sai quando ti metti anche nei panni della persona discriminata è formativo quando trovi delle persone che sono come te e che hanno subito la stessa ingiustizia in qualche modo fai fai gruppo ecco e vedendo com'è il mondo adesso del tatuaggio senti che un po' sia migliorata la situazione o sia sfociata in tutt'altro no di sicuro allora oggi non c'è discriminazione credo delle persone tatuate anche se un po' ne resta perché ti faccio un esempio se tu sei un poliziotto se vuoi fare il poliziotto e vai a fare la visita tu non puoi avere tatuaggi questa è una discriminante io capisco che la divisa imponga un certo rigore però se uno ha un tatuaggio su un pettorale ad esempio non da fastidio a nessuno al di là di questo della discriminazione sulla quale io francamente è stata una mia scelta ma non me ne frega niente di quello che pensa la gente di me ho deciso così mi faccio i tatuaggi vado incontro alla discriminazione senza paura non è tanto quello oggi invece vedo che il tatuaggio è molto sdoganato e la mia tra virgolette paura è che il fatto che sia sdoganato renda il cliente un po' più leggero in questa scelta e di fatti si vedono molte più coperture di una volta ok molte persone approcciano il tatuaggio in maniera un po' irresponsabile molti tatuatori non hanno quella fermezza professionale per dire no fermo non fare sta roba che una cazzata perché o non se ne sentono in diritto oppure hanno bisogno di lavorare e quindi prendono dentro qualsiasi cosa eccetera eccetera mentre una volta in tutti gli studi di tatuaggi del mondo si dicevano molti no adesso vedo dire molti sì ti faccio un esempio io potrei tatuare i minorenni con l'autorizzazione dei genitori io però non ritatuo i minorenni e spesso i genitori che mi riportano là brontolano nei miei confronti perché io rifiuto la loro firma a me non interessa la loro autorizzazione perché secondo me la scelta del tatuaggio è una scelta personale e non esiste una scelta personale con l'autorizzazione dei genitori capisci invece la tua carriera come come è stata nel senso è lunga ovviamente ma come prova a raccontarvi un po' i vari momenti allora diciamo che io intanto spero di proseguirla la mia carriera però io ho iniziato professionalmente a 17 anni nel 93 però già prima io tatuavo me stesso comunque ero immerso in questa mania proprio perché per me era una mania mi volevo vedere molto tatuato sentivo il bisogno di tatuarmi mio padre era tatuato perché era stato marinaio quindi di sicuro mi aveva influenzato la sua figura quindi iniziai a 17 anni a tatuare i clienti ok logicamente all'epoca si cominciava a casa propria e incominciai io sancisco i 17 anni come momento nel quale ho iniziato perché iniziai con una macchinetta bobine fin prima utilizzavo delle macchine che mi ero costruito io rotative roba di fortuna che mi aveva insegnato della gente che era stata in carcere a costruire quindi insomma oppure tatuavo a mano con gli aghi e il tappo di sughero nel vino per dire quando ho iniziato professionalmente ho iniziato ad avere gente che mi girava per casa ho iniziato a capire il vero valore di questo scambio perché io in quell'oretta due orette che passavo assieme ascoltavo le storie di queste persone le storie professionali eccetera eccetera e tutto questo mi formava io ero una persona molto diversa ero molto ignorante 30 anni fa molto più ignorante di adesso e soprattutto ero una testa calda un rompiballe e invece conoscendo tante storie tante persone questa cosa mi ha educato veramente cioè non solo tu come tatuatore educhi i tuoi clienti al tatuaggio ma loro ti educano alla vita perché io a 17 anni tatuavo per esempio uno di 50 che si era fatto 15 anni di galera o un ingegnere che lavorava alla Montedison che è una fabbrica grossa che c'era a Marghera poi un altro che lavorava in fincantieri nei cantieri navali ed era un operaio cioè era molto trasversale ogni cliente arrivava da un ambiente diverso e aveva le sue motivazioni per tatuarsi e quindi questo mi ha formato molto e mi ha aiutato molto poi ad aprire il mio studio perché io ho iniziato ho fatto un 4 o 5 anni a casa e dopodiché ho aperto il mio primo studio assieme ad un amico tatuatore sempre della mia città Marco Gazzato un tatuatore tra l'altro fenomenale per l'epoca perché ricordo io ho questo braccio fatto da lui che ha 30 anni insomma e quando gli americani lo vedevano strabuzzavano gli occhi e ricordo che aprimo questo studio io appunto ero più direzionato verso lo stile dei graffiti un po' di orientale iniziavo a masticarlo ma soprattutto virai immediatamente sui traditional che mi piacevano molto e che francamente a parte Fercioni che però aveva un suo modo di fare i traditional si vedevano molto poco e da di là praticamente come ti ho detto prima per i 10 anni io mi sento adesso non voglio dire una cosa che deluda le persone però per i primi 10 anni non si è tatuatori si fanno i tatuaggi per i primi 10 anni di carriera e solo dopo 10 anni ma perché l'ho visto anche nei miei apprendisti eccetera dopo 10 anni si ha diciamo gli strumenti per comprendere appieno il mestiere che si è intrapreso perché appunto hai 10 anni di persone che hai tatuato hai 10 anni di sbagli e di cose giuste hai 10 anni di confronto con gli altri colleghi e questa cosa qua ti rende un professionista diverso da come eri prima fai anche delle scelte una volta adesso vedo che si tende a partire con uno stile invece una volta una volta tu facevi qualsiasi cosa ti chiedessero perché la richiesta era molto più bassa di quella che c'è oggi quindi dopo i primi 10 anni appunto vado in Giappone e decido di chiudere le porte con l'Europa nel senso che andare in Giappone mi occupava talmente tanto tempo oltre a quello dello studio che decido di non frequentare le convention in Europa che avevo comunque frequentato soprattutto Germania e paesi nordici dove c'era c'erano più convention che da altre parti qui in Italia andavo a fare Bologna organizzata da Marco Leoni e Genziana che era una bellissima convention italiana ed era veramente un momento dove l'Italia era sul tetto del mondo perché c'erano la creme della creme di tutti i tatuattori del mondo quindi io credo che Bologna in Europa fosse una delle più belle convention proprio ad esempio le convention tedesche ad esempio avevano molti artisti tedeschi noi eravamo un po' gli outsider qualche americano eccetera Bologna invece aveva un parterre internazionale molto interessante insomma che io per esempio la prima che vidi nel 93 avevo 17 anni per me era una cosa incredibile anche perché c'era gente che avevo visto sulle riviste sai quindi era cioè insomma e ricordo che Marco Leoni mi dette il permesso anche se io non partecipai alla prima edizione partecipai alla seconda ma Marco Leoni mi dette il permesso di andare nella stanza dove si poteva comprare l'attrezzatura perché non era una stanza aperta a tutti era aperta solo a coloro che avevano un book che dimostrava che fossero tatuatori perché per farmi andare lì ha voluto vedere le foto dei miei tatuaggi e secondo me questa era una bella cosa nel senso che non tanto perché facesse da filtro ma perché ti diceva guarda se tu vuoi fare questo mestiere che in quel momento lì non aveva regolamentazioni non aveva niente devi passare da uno studio di tatuaggi ti devi far tatuare e devi capire cosa hai a che fare perché i danni che puoi fare con una macchinetta sono tanta roba insomma sì credo che sia una cosa che in quel momento lì possa aver aiutato alle persone che volevano veramente farlo avere la forza assolutamente te la guadagnavi cioè era per esempio io la prima macchinetta che ordinai ci mise sei mesi ad arrivare a casa mia cioè io dico sempre questa cosa perché oggi noi con paypal in due secondi fai l'ordine e 48 ore dopo ce l'hai a casa se ti arriva tre giorni dopo addirittura chiami il supplier e fai il complaining e invece io mi ricordo che feci l'ordine andai a fare un valia internazionale in posta e l'impiegata delle poste sudori freddi perché valia internazionale in Inghilterra aiuto per capirci perché non so non ne aveva mai fatto uno questo valia arriva ti arriva una lettera una bolla di conferma che i soldi sono arrivati e poi io per sei mesi non ho visto niente continuavo a chiamare sti inglesi al telefono chiamata internazionale che mi costava tanto quanto l'attrezzatura insomma era molto complicato quindi mettere le mani sull'attrezzatura in convention così che ce l'hai tutta lì era un sogno ecco quindi diciamo che queste difficoltà mi hanno reso ancora più caparbio cioè più secondo me quando tutto è facile tu non dai valore alle cose quando tutto invece è molto difficile e ti conquisti ogni piccolo step è lì che veramente ti appassioni a quello che stai facendo secondo me poi ognuno e quindi i primi dieci anni così la parte dopo è stato tanto tanto Giappone e logicamente sempre il confronto con la mia compagna e con i ragazzi che hanno lavorato con noi nel nostro studio che hanno imparato da noi e che noi abbiamo tirato su con un certo discorso etico e in Giappone per esempio una cosa che mi hanno insegnato molto al di là dell'iconografia eccetera che è molto importante ma non è la cosa più importante del Giappone è il rapporto con i clienti cioè il cliente è è quello che ti dà la possibilità di fare i tatuaggi e tu sei lì per svolgere un compito che lui ti dà e quindi bisogna ascoltare molto i clienti capire perché si vogliono tatuare e esaudire quel bisogno ok perché se tu invece tatui per appagare il tuo ego perché tu ti senti che sei bravissimo a disegnare che vuoi mostrare i tuoi disegni a tutti ti perdi una grande fetta del tatuaggio come dicevo prima a me i miei clienti mi hanno insegnato tantissime cose no e fare le sedute con queste persone poi mi permette che tutte le cose che ho imparato le posso trasferire su queste persone no quando tu fai un tatuaggio quella linea che fai resterà per sempre su quella persona e assieme a quella linea ci resterà anche il tuo atteggiamento perché nella migliore delle ipotesi se sei uno stronzo e ti dimenticano sono fortunati ma se invece ti sei comportato male ogni volta che si guarderanno quel tatuaggio e guarda io ho conosciuto persone che avevano dei bellissimi tatuaggi però fatti da dei tatuatori che si sono comportati male con loro e li hanno voluti coprire capisci c'è un'energia quando tu fai un tatuaggio che trasmetti alla persona e che non è irrilevante ok quindi insomma questo è una cosa che bisogna farci molto più caso e oggi credo che questa cosa qui un po' si stia perdendo perché vedo gente che tatua con le cuffie che si isola dal cliente che questo soffra o meno chi se ne frega quello non è un tipo di tatuaggio che mi piace c'è stata una figura che è fatto un po' come da maestro nella tua carriera assolutamente beh quando penso a Orihide si penso a un maestro nel senso che lui era un tatuatore che quando ci siamo conosciuti aveva già 83 anni e era probabilmente il tatuatore più famoso in Giappone è riconosciuto da tutti perché all'epoca insomma era il vecchio del Giappone nel suo studio di Yoko Suka probabilmente lui è stato tra i primi tatuattori assieme a Origoro ad usare le macchinette occidentali per fare i tatuaggi tanto che lui smise di utilizzare le bacchette Tebori e utilizzò le macchinette abbiamo avuto l'occasione di andarlo a visitare diverse volte cioè diciamo che da quando ci siamo conosciuti ogni anno che tornavo in Giappone andavo almeno a fargli una visita e niente mi piacevano i nostri scambi andavamo sempre con un altro tatuatore giapponese che ci faceva da interprete praticamente e mi piacevano e mi piacevano molto i nostri scambi perché Origideira era una persona molto diretta e a me piace se uno mi deve criticare il lavoro che sia molto diretto nella critica non mi piacciono i giri di parole e in più quando mostro il mio book a un collega mi fa piacere ricevere critiche non voglio sentirmi dire che sono bravo perché non è quello che sto cercando sto cercando magari una critica che io non riesco a fare su me stesso anche se io sono molto duro con il mio lavoro e Origideira non aveva nessun problema a farlo e mi piaceva molto questa sua spontaneità io ho sempre ammirato tantissimo il suo lavoro quindi diciamo che io ho conosciuto prima il suo lavoro che l'uomo ma poi è una di quelle rare volte dove quando conosci un tuo eroe questo eroe è veramente un grande proprio difatti sono riuscito a pubblicare un libro sui suoi disegni che abbiamo fatto assieme a Michi Vialetto e questo libro addirittura è finito nella collezione del MoMA come folk art del Giappone di questi anni insomma perché è una testimonianza quasi unica del lavoro di un maestro che purtroppo è scomparso quando aveva già ormai 89 anni insomma come viveva lui il tatuaggio nel senso che come ovviamente vecchio esperto come lo viveva? beh lui era quello che proprio in Giappone si definisce uno shokunin se lui non fosse stato un tatuatore probabilmente sarebbe stato considerato tesoro nazionale perché tu sai che in Giappone gli artigiani di un determinato settore che che fanno delle eccellenze vengono considerati un tesoro nazionale al pari dei prodotti che fanno quindi questo sarebbe stato il suo ruolo in Giappone però lui se n'è sempre fegato un giorno mi disse anche che l'hanno arrestato tre volte proprio perché era un tatuatore e lui non è mai uscito al Giappone ma ha girato per tutto il Giappone tatuando tantissimo ha fatto credo 600 corpi completi che insomma è tantissimo lavoro e era instancabile a 83 anni ogni volta che andavamo a visitare c'aveva un pacco così di dipinti nuovi di zecca cioè era una cosa ma tra l'altro la cosa divertente è che mi diceva sì perché qui dentro noi fumiamo la carta si ingiallisce e quindi devo rifare i dipinti e capito e in più secondo lui bisognava ripetere 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 lo stesso soggetto centinaia di volte per acquisirne la padronanza e per poi poterlo replicare sulle persone anche perché lui viene da un'era dove non esistevano le stencil machine quindi si disegnava tutto a mano libera e lui quando parlava di tatuaggi voglio dire da ultra ottantenne gli brillavano gli occhi quindi la sua passione era sconfinata per il tatuaggio tatuava molto meno in quegli anni ma continuava a tatuare cioè e aveva appunto un'area della sua casa dedicata ancora ai suoi ultimi clienti quindi è stata una grande fortuna avere a che fare con quell'uomo perché devo dire che oltre a avermi trasferito della conoscenza veramente impagabile ma mi ha anche trasferito una visione del futuro di come può essere la vita di un tatuatore che non si stufa o che insomma che ha voglia di continuare a migliorare per tutta la vita ed è possibile sei riuscito a portare parte di quegli insegnamenti nei tuoi apprendisti nei miei apprendisti che hai avuto durante la tua carriera o comunque non errebbe chiederlo a loro me lo auguro di sicuro beh Steffi mia moglie è stata anche mia apprendista e di sicuro lei ormai è una tatuatrice fatta e finita e anche lei ha goduto degli insegnamenti di Oride e di sicuro lei ad esempio ha lo stesso tipo di rispetto che ho io nei confronti di Oride diciamo che una cosa che ho notato negli occidentali quando imparano è che hanno la tendenza a quando sono emancipati a non avere più interesse nel continuare la relazione con il maestro mentre in Giappone la relazione con il maestro è per sempre e è un peccato perché secondo me il rapporto di apprendista e maestro è un rapporto di scambio costante e questo scambio è bene che venga mantenuto no matter what nel senso che possono succedere tante cose ma il rapporto andrebbe mantenuto sempre insomma quindi sì è un po' più difficile qui invece in Giappone o c'è proprio uno scazzo dove c'è una separazione definitiva oppure non si perdono questi legami in Europa si perdono più facilmente a volte dipende poi da persona per persona io ho persone con le quali ancora mi sento molto eccetera ma altre che non vedo più ad esempio come sei riuscito ad entrare così tanto dentro al mondo del tatuaggio giapponese che è un mondo molto chiuso è un mondo molto chiuso ma ripeto grazie alla Ryu Family di sicuro mi sono state aperte molte porte perché loro godevano di un rispetto tra i tatuatori della loro epoca in più tra tatuatori c'era una forma di rispetto reciproco perché fai parte di un mondo chiuso alla maggior parte e sì credo che grazie a loro insomma mi siano state aperte molte porte in più diciamo che io non è che andavo lì a mani vuote io portavo le mie conoscenze e quindi ad esempio io sono stato ho studiato molto la tecnica della macchinetta a bobine perché all'epoca quella si usava particolarmente e quando andavo lì condividevo molto di queste mie conoscenze ad esempio e quindi spesso ho regolato le macchine ai miei amici che poi le provavano e si trovavano bene e quindi mi chiedevano di regolarle anche per i loro amici no in più una delle persone che ho conosciuto e con i quali ho lavorato origen a Fukuoka organizzò una delle prime tattoo convention giapponesi che si chiamavano tattoo event erano robe di un giorno che erano quasi dimostrative anche un po' per sfidare la legge che non c'era esattamente una legge contro i tatuaggi ma comunque per fare i tatuaggi tu in teoria ti dicevano che dovevi essere un medico questo era e quindi chi tatuava e veniva beccato si beccava abuso della professione medica poi questa cosa adesso non c'è più perché nel 2016 un collega ha fatto ha fatto ricorso e ha interpellato l'associazione medica del Giappone e i medici hanno detto che il tatuaggio non è una pratica medica quindi se lo si vuol vietare ben venga ma bisogna fare una legge insomma e per adesso siamo in una zona grigia quindi anche questo probabilmente sta giocando a favore degli colleghi Origen di Fukuoka aveva proprio questo era molto più grande di me io andai lì a lavorare appunto che avevo circa 27 anni credo sì perché era il 2003 che andai a Fukuoka stetti lì due settimane con Shiryu che volle venire assieme a me e Origen già aveva 43 anni all'epoca quindi era logicamente un veterano per noi tra l'altro aveva conoscenze di tatuatori australiani inglesi insomma conosceva diversi tatuatori che erano passati di là brasiliani eccetera ed era un fanatico del tatuaggio collezionava macchinette collezionava dipinti di altri tatuatori eccetera eccetera il suo maestro tatuatore fortissimo che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Orimitsu che purtroppo era morto piuttosto giovane nel 1993 94 quindi insomma un mostro allucinante vedi le foto grazie a origen perché ci scambiavamo anche materiale perché appunto non c'era internet c'erano solo le riviste ma le riviste non coprivano il lavoro di questi tatuatori e poi lavorai a Kyoto a Cat Cloud Tattoo che all'epoca era uno street shop a Kyoto fatto all'americana tra virgolette dove però c'erano dei tatuatori giapponesi Orinao Madoka e quello che oggi Ritsu insomma che oggi invece è un tatuatore che fa giapponese tradizionale lì a Kyoto lavorando insieme a loro anche loro avevano i loro contatti e anche loro li aprivano a noi poi anche loro sono venuti da noi insomma era un continuo scambio di connection e di skills e di tante cose insomma cioè non c'era non è che io nascondo il quaderno e non ti faccio vedere cioè anzi condivido tutto il più possibile perché più diventiamo bravi tutti quanti e meglio è per tutti insomma invece se ti chiedo come veniva strutturato il tatuaggio giapponese perché le ultime volte che abbiamo parlato insieme mi raccontavi anche proprio che c'erano delle famiglie e poi dalla famiglia nascevano vari apprendisti e di quella famiglia sì cioè come funziona nel senso cercare di essere il più semplice possibile perché è complicato allora questo è come funziona in tutte le arti in Giappone cioè in qualsiasi forma di artigianato eccetera eccetera c'è questa struttura dove il maestro insegna a un primo apprendista che ha un secondo apprendista gli apprendisti chiamano il maestro padre praticamente e lui tramanda a loro loro copiano per un po' di anni perché l'apprendistato in Giappone è star lì a guardare il maestro e aiutarlo come assistente in quello che sta facendo per esempio si vede che sta finendo il tappino di colore il bravo apprendista riempie l'inchiostro senza che il maestro glielo dica cioè quindi c'è un'educazione al servizio del tuo maestro perché lì è molto importante questa cosa qua per noi occidentali è una cosa incomprensibile ma in realtà lì è radicata e l'apprendista appunto soprattutto nei primi anni del suo apprendistato replica esattamente ciò che fa il maestro se tu chiedi a un tatuatore che tatua da 20 anni in Giappone qual è il suo tatuatore preferito lui subito ti guarderà e ti dirà il mio maestro il mio tatuatore preferito e questo te lo dirà per tutta la vita anche se lui di sicuro avrà delle preferenze però formalmente la famiglia è questo cioè è una piramide dove il maestro è colui che va rispettato fino alla fine e va accompagnato anche dopo la pensione eccetera eccetera insomma quindi c'è molto rispetto logicamente è una regola che ci si dà ok ed è una regola che si rispetta anche se tante volte è molto difficile rispettare e quali erano e quante erano le famiglie beh negli anni 90 di sicuro Orioshi Family che era molto famosa anche qui però ogni famiglia poi ogni apprendista crea una sua famiglia quindi è molto difficile le più influenti di sicuro la famiglia di Oritoshi di Kebukuro la famiglia di Oride di Yokosuka la famiglia di Oriasu di Asaksa e la Ryu Family questi miei amici non vorrei dimenticarne erano cioè veramente tante insomma Bon Tentaro per esempio aveva una sua famiglia Bon Tentaro artista multitattuatore attore musicista fumettista insomma un personaggio molto eclettico in Giappone molto conosciuto insomma c'era tantissime famiglie delle quali non si è mai avuto traccia perché molto underground molto nascoste cioè farei molta fatica a farne un elenco insomma possiamo parlare tranquillamente di una ventina di famiglie abbastanza tranquillamente poi ognuna di Orikio esatto la famiglia di Orikio ad esempio che lui era coreano trasferito in Giappone scomparso recentemente poi ripeto ogni apprendista fa la sua piccola famiglia quindi Oriwaka quello che volevo capire è quante cioè se mi immagino il tatuaggio giapponese e mi immagino che solo una ventina di famiglie o più o meno saranno 20 magari 30 non penso che saranno 100 hanno reso no no dalle prime le prime hanno reso poi il tatuaggio giapponese le prime famiglie non lo sappiamo nel senso che purtroppo le informazioni su quegli anni là sono sono da prendere un po' con le pinze sono un po' complicate da risalire bene e per esempio c'è Costanza Brogi che sta facendo un bel lavoro da questo punto di vista perché sta facendo delle ricerche molto approfondite su questa tematica e lei secondo me è molto esperta molto più esperta di me a riguardo per esempio è difficile stabilire quante famiglie ci sono perché tante famiglie non uscivano da scoperto hai capito quindi diciamo io ti ho parlato di quelle famose in quel periodo nel quale sono andato io sinceramente credo una ventina delle quali si sentiva parlare ma di sicuro erano più di centinaia perché in ogni paese c'era una famiglia di tatuattori magari piccola di due o tre o magari anche uno solo che continuava solo che il problema è che avendo delle leggi che non ti permettono di fare questo lavoro qua il proprio la come si dice il mestiere si va a perdere no? e anche l'accesso a questo mestiere è limitato ok? quindi c'è stato un momento nel quale si temeva per la sopravvivenza del tatuaggio giapponese ancora oggi secondo me rischiamo l'estinzione dei maestri tradizionali di quest'arte no? e per fortuna adesso in Giappone c'è un momento di tolleranza maggiore quanto meno non è più illegale e molti tatuatori giapponesi escono dal Giappone e porta e molti occidentali molti orientali hanno iniziato a fare il tatuaggio giapponese quindi mantenendo vivo questo spirito che secondo me sarebbe veramente una perdita enorme per non solo per la cultura del tatuaggio ma per la cultura in generale perché è una forma di artigianato artistico di estrema importanza secondo me non perché io faccio questo tipo di lavoro ma perché semplicemente se noi pensiamo che la ceramica sia una cosa importante se noi pensiamo che la stampa sia una cosa importante il tatuaggio va fatto sugli esseri umani quindi direi che come superficie è abbastanza importante per noi l'altra volta mi hai fatto vedere un libro che parlava di questo medico che ha creato questa zona dentro a un ospedale penso che sia comunque la parte universitaria dove mantengono le pelli di alcune persone dottor Fukushi allora il dottor Fukushi ha creato appunto questa collezione ha addirittura pagato alcuni di questi clienti perché si finissero il tatuaggio e ci sono diverse foto molto belle di lui nei sento assieme a queste persone tatuate e lui stava facendo una ricerca come dermatologo e quindi il suo interesse era vedere cosa avrebbero fatto questi inchiostri sulla pelle e ad esempio lui fece tutta una ricerca su il pigmento rosso e come si comportavano i confronti di determinate malattie eccetera eccetera e suo figlio ha continuato questa questa collezione per un po' adesso questa collezione è una collezione privata che si trova all'interno credo della facoltà di patologia dell'università di Tokyo l'accesso purtroppo non è consentito a chi non è legato all'università direttamente quindi molto difficile ed Ardi e anche i penchi ad esempio sono potuti entrare a vedere le pelli tatuate ci può anche andare chi ha un parente lì esposto diciamo le pelli sono tenute alcune sotto formaldeide altre invece sono proprio installate su un manichino per farle vedere ci sono dei lavori insomma molto interessanti molto belli di Ori Uno di Ori Bun di tutti i tatuatori diciamo dell'era Meiji e Showa e primo Showa che sono diciamo l'era immediatamente dopo il periodo Edo e l'era moderna tra virgoletta perché ogni imperatore nuovo che cambia si cambia era in Giappone cioè se ti chiedessi come mai il tatuaggio giapponese si è riuscito a creare qualcosa che vestisse il corpo che durasse negli anni che spronasse persone da tutto il mondo allo studiare migliorare e non ho visto le stesse cose magari in Europa o magari in America in America magari col tradizionale c'è una rivisitazione ma magari in Europa un po' meno c'è sempre il giapponese ripreso il tradizionale ripreso oltrebale ripreso allora secondo me il tatuaggio giapponese logicamente io parlo da uno che ne è molto affascinato ha il pregio di valorizzare il corpo quindi questo tipo di intanto c'è molto nero nel tatuaggio giapponese e l'impatto del nero sul corpo crea e ridisegna il corpo stesso ok un maestro di questa di quest'arte riesce a scolpire prendilo tra virgolette il corpo del cliente creando una sinuosità e una sensualità di questo corpo maggiori a prima a quando il corpo non è tatuato logicamente è molto difficile perché la creazione di madre natura non si batte ma quando uno è molto bravo secondo me riesce in questo intento e questa cosa qua la capisce anche chi è di giuno no ad esempio se uno va a guardare il singolo disegno nel tatuaggio giapponese soprattutto una persona che non ne ha una chiara conoscenza all'inizio lo vede come un tatuaggio un po' grezzo un po' poco definito molti tatuatori ad esempio che sono dei maniaci della tecnica lo vedono come un tatuaggio poco tecnico anche se in realtà è molto complesso ma in realtà questi sono dei punti di vantaggio il modo che ha di invecchiare sul corpo permette ad un tatuaggio a tutto corpo di starti bene quando tu hai 20 anni o quando ne hai 60 ad esempio e anche questa è una cosa importante perché se io vedo un tatuaggio su un ragazzo di 20 anni con un fisico tirato eccetera eccetera magari che gli sta bene addosso perfetto ma quando questa persona avrà 60 anni e il suo fisico sarà probabilmente diverso perché sono rari i casi che mantengono e gli starà ancora bene? questa è una domanda che per esempio molti tatuatori che fanno tatuaggio giapponese si pongono se io mi vesto in sneaker e braghe della tuta o se sono in giacca e cravatta e si vede un po' di questo tatuaggio questo tatuaggio mi sta bene o non mi sta bene ad esempio secondo me il tatuaggio giapponese è molto elegante ad esempio quindi anche se uno si arrotola una camicia e si vede uscire un po' di sfondo non ci vedo niente di male anzi trovo che sia una cosa che colpisce l'occhio che un po' cattura e che racchiude quell'eleganza propria che si definisce in Giappone come iki che non è solo eleganza è un concetto un po' più complesso che magari uno si va a ricercare su Google che ormai ci racconta tutto una domanda invece che mi sono chiesto tantissime volte ne parlavo con Steph l'altro giorno è di quanto conta la tecnica nel tatuaggio giapponese nel senso che noi nuova generazione siamo abituati a vedere i tatuaggi e a giudicarli tanto per la tecnica quindi linea perfetta saturazione pulita sfumature morbide per noi perfezione vuol dire qualità nel giapponese spesso non è sempre lo stesso non ha lo stesso significato intanto dipende molto dalla scuola per esempio Oriyazu di Asaksa è estremamente tecnico Oritoshi è estremamente tecnico i suoi neri sono incredibili il bianco è famoso in tutto il mondo la saturazione dei colori è massiva non esiste la perfezione è un'illusione il discorso di voler fare un tatuaggio perfetto noi non siamo delle stampanti quindi non ci sarà mai la perfezione di un tatuaggio perché la pelle non è una superficie perfetta e tenderà a cambiare il lavoro che tu fai la perfezione tra virgolette nel tatuaggio è riuscire a prevedere quali sono questi cambiamenti come avverranno e come far sì che la tecnica che tu stai usando negli anni renda quel tatuaggio più interessante più bello da vedere e in questo il tatuaggio giapponese è imbattibile wabi-sabi è un termine giapponese che tradotto si può tradurre con la bellezza dell'imperfezione se vuoi cioè per esempio io prendo una teiera la compro nuova è perfetta e bellissima la uso per 40 anni si arrugginisce da una parte o ci sono delle macchie da un'altra eccetera eccetera ecco queste macchie quella ruggine quel segno magari quello striscio cosa mi fanno vedere mi fanno vedere il tempo che è passato e danno a quell'oggetto un'energia diversa la stessa cosa nel tatuaggio io invecchiando il mio tatuaggio invecchia con me le sfumature per esempio si distendono molto i colori diventano e le linee diventano molto più larghe magari eccetera però essendo il tatuaggio giapponese strutturato per 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 prevedere questo invecchiamento ecco che secondo me è migliore io quando vedo per esempio vedo i tatuaggi addosso a una persona di 70 anni in Giappone erano molto più belli secondo me di quando li aveva appena fatti perché questa evoluzione nel tempo aggiunge anziché togliere ok e dà storia a quello che hai in più il tatuaggio smette di essere un disegno sul corpo ma diventa il corpo stesso ed è questa la chiave secondo me per ogni tatuaggio per quello per esempio quel tatuaggio tribale secondo me è bellissimo quando è fatto con gli strumenti tradizionali perché ha bisogno di tempo per per esempio un PA Samoano ha bisogno di tempo per diventare quello che sarà ma in prospettiva è stupendo vederlo dopo 20 anni che è stato fatto perché il segno che ha lasciato il tatuatore man mano la sua mano svanisce ed è proprio il tatuaggio di quella persona che invecchia con quella persona ed è questo che lo caratterizza questo è giusto per concludere l'argomento cercando di essere anche un pochettino più preciso è una cosa che magari non si può avere per sempre perché io mi immagino un tatuatore che fa una lunga carriera e arriva verso la fine della carriera e che deve comunque cercare di essere coerente con la sua inizio carriera e una maniacale perfezione nella tecnica che magari va a tralasciare dal lato artistico può portare negli anni ad avere sì all'inizio uno tecnico perfetto ma artisticamente un po' così successivamente tecnicamente non perfetto ma artisticamente molto cioè è più che altro per tenere una coerenza nella vita del tatuatore o è perché effettivamente con gli strumenti che c'erano una volta e gli strumenti che ci sono adesso non era la stessa cosa quindi comunque era normale avere una tecnica non come quella che c'è adesso ma per gli strumenti che ci sono adesso ma guarda secondo me la tecnica è irrilevante quando non c'è un buon disegno di base cioè mi spiego l'opera vera è il concetto no quindi come quel disegno viene messo sul corpo perché non è neanche importante che sia per esempio se tu disegni un fiore che sia la più bella peonia del mondo ma deve essere la miglior peonia che tu hai messo in quella posizione lì e non ce n'è nessun'altra che stava meglio quindi quello è molto più importante di come questa peonia viene realizzata perché anche se il colore un domani andrà via o la linea scopi eccetera al limite si può anche ripassare non è che non si può toccare ma la tecnica diciamo quella di fare la linea perfetta eccetera eccetera non è una cosa così fondamentale secondo me e a costo di ripetermi però proprio il concetto e come ti sta addosso quello è importante un bel tatuaggio è un tatuaggio che ti sta bene addosso ti faccio un esempio Dani Trejo l'attore messicano con quella grande messicana sulla pancia deve probabilmente la sua fama a quel grande tatuaggio che è incredibilmente impattante ok quel tatuaggio tecnicamente non è un tatuaggio realizzato bene ok perché è un tatuaggio da galera per capirci con una linea molto grossa eccetera eppure secondo te quello è un bel o un brutto tatuaggio all'inizio vedevo le cose in una maniera troppo superficiale cioè avrei detto brutto ma oggi sto rivalutando il modo in cui vedo il tatuaggio perché non voglio tralasciare l'importanza del momento vissuto dalla persona cioè se tu ti tatui in carcere che vabbè non è una cosa che penso che mi capiterà speriamo di no speriamo di no ti porterà dietro un'esperienza se ti tatui da un artista che ha 80 anni ti porti dietro l'esperienza se ti tatui in un momento in cui sei ubriaco ti porti un'esperienza ed è più importante quella che che la tecnica in sé che il risultato assolutamente cioè le opere d'arte non sempre sono tecniche la gioconda non è tecnicamente perfetta eppure è una delle opere d'arte più famose del mondo cioè la tecnica è sopravvalutata perché diciamo che chi non ha fantasia ha tecnica no la tecnica è molto importante ma non è il centro non è il centro come ripeto questo tatuaggio addosso a quella persona rende questa persona particolare la rende la caratterizza benissimo quello è un bel tatuaggio per me a me è successo che mi hanno chiesto di fare il giudice delle convention anche se per me è una cosa poco ortodossa però ricordo che dovetti giudicare dei bodysuit e per esempio arrivò un uomo che aveva dei tatuaggi tecnicamente perfetti soprattutto realistici ma non solo però ognuno aveva fatto sul suo corpo il suo pezzo addirittura a rettangoli Batman Spiderman insomma e quando io vedevo il suo corpo nel complesso vedevo tantissimi lavori di estrema tecnica però che non gli adornavano il corpo invece poi è arrivato questo tatuatore che era coperto di roba fatta negli anni probabilmente 80 in nord Europa da tatuatori del porto eccetera tutti scoppiati eccetera ma che gli facevano addosso una muta diciamo multicolore molto coerente ecco questa coerenza io l'ho voluta premiare perché secondo me quello è un bodysuit ok l'altro era una specie di galleria d'arte messa addosso poi ognuno ha i suoi gusti io non dico di avere ragione però per me se devo giudicarlo quello mi piace di più di sicuro hai capito e vale la stessa cosa per tutti i tatuaggi non solo per giapponese o realistico ad esempio io ricordo un mio parente lontano in Spagna che io conobbi quando aveva già 90 anni era in sedia a rotelle che era coperto di tatuaggi perché era stato nella legione straniera e lui aveva due volti di donna ormai a 90 anni ti puoi immaginare scoppiati molto neri dei quali tu vedevi la silhouette e basta la silhouette nero su pelle bianca però quei due volti di donna tu quando li vedevi vedevi una donna degli anni della fine dell'ottocento capisci e c'era questa potenza in quel tatuaggio quindi per me è molto importante la caratterizzazione della persona quando quel tatuaggio parla di chi ce l'ha e mi fa capire con che persona ho a che fare e allora quello è un bel tatuaggio non mi interessa come è stato fatto a me proprio non interessa minimamente se dovessi dare un consiglio al giovane te a inizio di tutto cosa ti saresti consigliato di fare o di dire allora prima di parlare conta fino a 30 e non a 10 per esempio e no di sicuro mi darei il consiglio di rifare tutto quello che ho fatto con la consapevolezza che quello che volevo arrivava perché quando si è giovani si vuole tutto subito tante volte o comunque ci si sente delusi perché non si ottengono dei risultati che ci si è prefissi però in realtà tante volte questi risultati stanno arrivando è che te non te ne accorgi perché la tua fame è di più di quello che stai mangiando ti sembra ma in realtà hai ordinato troppo al ristorante e quindi poi arriva anche il dolce eccetera eccetera quindi di fare tutto con molta calma e con molta pacatezza e di dedicare tanto tempo a a pensare a quello che ti chiede quella persona che ti permette di essere un tatuatore perché soprattutto in alcune fasi della carriera e in alcune situazioni mi vengono ad esempio le tattoo convention si rischia di non essere abbastanza attenti alle esigenze della persona che ti fa tatuare e questo è un gravissimo errore che si paga perché lo si paga sia in termini di affezione delle persone che si sono fatte tatuare da te ma anche e soprattutto in termini personali perché se non sei un insensibile questa cosa a un certo punto della tua carriera dirai forse con queste persone non mi sono comportato così bene cosa rende Krets Krets beh questo non lo so mi piace per esempio quando gli altri me lo dicono sinceramente perché io osservo molto i difetti del mio lavoro ad esempio e osservo anche i pregi del mio lavoro quello che mi rende me probabilmente è una storia molto singolare nel senso che appunto non ho avuto una formazione classica e quindi questa formazione ho scelto io il mio piano di studi e l'esame invece me l'hanno fatto gli altri ok e questa cosa qui mi ha formato probabilmente in una maniera unica almeno penso io insomma e e quindi ho sempre voluto cercare l'unicità dello stile per esempio a me non piacevano i tatuatori che imitavano quel tatuatore o che imitavano quell'altro tatuatore perché mi piacevano i tatuatori invece che tiravano fuori qualcosa di loro poi ognuno fa quello che vuole sia ben inteso però a me è piaciuto prendere questa via qua insomma e spero di essersi riuscito insomma vorrei chiederti di parlarmi un po' del del corso che stiamo facendo insieme con con T.T.S. World e di parlare delle motivazioni che ti hanno spinto anche a a dedicare così tanto tempo perché sarà tanto eh certo sarà tanto tempo allora io ho insegnato sia ai corsi obbligatori dell'ASL che si fanno qua in Italia che sono dei corsi igienico-sanitari dove io il mio ruolo è quello di prendere la normativa snocciolarla e far capire alla gente come comportarsi in studio e mi è piaciuto molto mi piace molto condividere soprattutto con i nuovi tatuatori perché hanno quella fame di imparare di capire le cose no magari in Italia c'è molta timidezza devo dire la verità però è una cosa che mi piace fare in più io ho 47 anni e appunto ho 30 anni di informazioni che ho incamerato no e siccome non sono una persona egoista mi piace condividere queste informazioni proprio per il bene del tatuaggio nel senso che secondo me se i tatuatori con le mie informazioni possono imparare qualcosa ne godiamo tutti poi no e sinceramente l'approccio apprendista tatuatore è un approccio molto esclusivo no oggi io stesso imparo tantissime cose su YouTube ad esempio no perché non so dalla storia ma ma veramente tante cose no mi piacerebbe che ci fosse questa parte di condivisione anche del mio mestiere fatto come lo state facendo voi ho visto dei video che avete fatto e li trovo molto interessanti no e in più penso che avere degli artisti che fanno dei video sia un qualcosa che ci permetterà di avere nel futuro un archivio storico no di questo momento no e io voglio essere parte di questo archivio ti faccio l'ultima domanda che credo che sia anche la domanda più importante che faccio di solito durante questo tipo di interviste è il perché è tutto questo i lavori perché hai deciso di tatuare perché hai deciso di studiare così tanto il tatuaggio giapponese perché hai deciso di vivere il tuo stile di vita come lo stai vivendo perché cosa ti spinge beh ci sono cioè la motivazione è che è proprio la mia ragione di vita cioè nel senso che per me io ho capito che questo è il mio lavoro ok io mi piace fare tante cose io suono canto eccetera eccetera e sono tutte cose alle quali non rinuncerei il tatuaggio mi ha permesso di di avere la maggior parte delle amicizie più sincere che io ho oggi no perché sono amicizie che io ho conosciuto attraverso il tatuaggio mia moglie stessa lavora con me tutti i giorni quindi per me cioè io da bambino volevo fare il tatuatore cioè non avevo altre aspirazioni no e sinceramente il tatuaggio trovo che mi abbia dato veramente tanto no sia in termini di evoluzione della mia persona che in termini di stile di vita eccetera eccetera e quindi io voglio dare indietro al tatuaggio più che posso nel senso che mi piace pensare che ci sia un altro ragazzo come me che oggi ha 18 anni e che ha una storia simile alla mia o anche molto diversa ma che possa ottenere il benessere che ho ottenuto io psicofisico grazie a questa carriera perché non dargli questa opportunità insomma grazie a voi grazie